Il 2022 è un anno particolarmente sorprendente per noi perché sono successe tante cose che ci hanno entusiasmato, tante cose che ci hanno dato una botta di grande energia. Prima di tutto la programmazione che è veramente di altissimo livello, possiamo citare nomi della scena musicale internazionale come Yellow Jacket, John Patitucci, George Cables e poi ancora Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, ma anche nomi della canzone italiana come Mario Venuti e Eugenio Finardi con il suo nuovo progetto in trio acustico. Poi per le collaborazioni che abbiamo, oltre alla storica collaborazione con Itaca, Agenzia per lo Sviluppo Locale, Valle delle Abbazie, quest'anno possiamo vantare la collaborazione con il Galle Terreverdi Terramane, con il quale è nato un progetto di promozione del territorio, di tutto l'aspetto enogastronomico, quindi una promozione integrata sotto diversi punti di vista. e poi, ciliegina sulla torta, devo dire che siamo rientrati nel FUS triennale del Ministero della Cultura, il FUS è il fondo unico dello spettacolo e questo ci permette di respirare, lavorare in maniera diversa con una prospettiva sicuramente a lungo termine e devo dire che per un'associazione dell'entroterra, Terramano e dell'entroterra in generale è comunque un risultato sorprendente. Sono tanti comuni perché la manifestazione non è limitata a una serata in un comune, ma abbraccia il territorio con un progetto più ampio ed è anche per questo che il BIM ha dato il suo sostegno, proprio riconoscendo la valenza innanzitutto, l'esperienza finora maturata, le prospettive per il futuro e poi perché abbraccia diversi territori del comprensorio del consorzio. Rientra tra le attività programmate nel nostro piano di sviluppo locale e quindi riteniamo un'iniziativa di eccellenza e quindi un ottimo veicolo per far conoscere le produzioni territoriali di alta qualità.